Ciao, cuore! Ciao, Marie, come stai? Bene, e tu? Bene, ma sei sola? Eh, in realtà ce la scassa cacchi. A te che te la faccio salutà. Sì, sì. Saluta, Lucì. Ciao. Ciao, piccolina. Come va laggiù? Beh, tutto a posto, tutto tranquillo qui. Piatote, io vado avanti e indietro come uno strumolo. E la casa, come sta venendo? È bellissima, però ci sono ancora un sacco di cose da fare. Dobbiamo scegliere le tende, il box doccia, e poi c'è la parete della stanza che tu devi ancora finire di dipingere. Poi ti ho trovato il vestito. Il vestito? Un tight grigio con i plastron. E poi sono andata a vedere anche le bomboniere che sono un vero disastro. Ah, Marie, fermati un attimo, non mi stai facendo capire niente. Mi manchi. Sei bella, Marie. Lo sai che sei bella? Ma sei tutta truccata. Stavi uscendo, eh? Perché sei geloso? Ah, beh, un po'. Dicela in verità, mi vorresti come una di quelle parti, eh?